ciao a tutti giugioline allora voglio fare una mini haul mini vabbè per me sono cose normali non è proprio mini comunque non è che sono tante cose allora ieri sono andata a girare con la mamma io invece mi servivano due maglie per fare palestra e quindi mi sono presa due semplici t-shirt ora levolo zoom perché sennò non vedete nulla due maglie semplici queste qui una nera e una bianca perché erano si ce le vendevano praticamente a coppia se non aveva preso due nere ma vabbè e poi avevo preso anche una gonna fascia perché ho visto erano al buono carina comunque sia le conne che avevano solamente che io mi sono mi sono provata la m no questa è la scusa ma io mi sa che mi sono provata la s poi ho preso la l ecco perché non torna vabbè comunque ve la può vedere ma fate conto che la m è così e questo invece è un po più grande comunque enorme veramente e il colore è appunto questo blu grigio non so che grigio fumo non lo so e poi c'è il nero è molto carina comunque e sì mi sta grande ma ancora c'è attaccato il cartellino quindi volendo posso andare a ricambiare poi ci siamo fermati da coin ma abbiamo fatto comunque sia una cosa molto veloce perché avevamo il cane a casa da solo e quindi la mamma non lo voleva lasciare da solo anche se secondo me si deve un po' abituare quindi io siccome avevo finito per la seconda volta la famigerata matita marrone siccome mi serviva sono andata a prendere un'altra questa qui stamani l'ho messa su infatti mi mancava un pochino la matita marrone poi invece lei siccome so che vi i trucchi vi interessano lei da coin ma si è preso comunque sia proprio cose e ho fatto prendere il pennello da ombretto perché sull'ordine che si è fatto dalla gioiava non l'ha preso perché nella pepà avevo già messo 80 euro che comunque sono spese mie e anche di un'altra persona quindi questo non ci entrava per il prezzo e quindi l'ho fatto prendere che è il classico pennello quello lì da ombretto della dell'essence questo qui viola poi le piaceva questo ombretto qua che si chiama yes i can il nome perché c'è il canzo yes i can scritto così è il canzo e praticamente è un lei va passa per il celeste e sta benissimo sugli occhi e però non è proprio un celeste celeste c'è un po metallizzato però c'è anche un grigio no volevo sentire l'odore ma non ha odore questo qua è ancora un po particolare comunque c'è perché è un blu ma anche un grigio comunque molto bello come colore c'è particolare doveva prendersi un mascara e ha consigliato questo rosa perché lei ha avuto il nero un pezzo di pisellino perché lei aveva il nero e ha avuto il verde e le piacevano comunque questo qua il multi action forse quello quello base non lo so come perché io avevo quello quella rancione che adesso però ce l'ho ce l'ho in cartella perché è finito è strafinito e questo è lo scovolino comunque sia normale ma lei siccome le ciglia corte voleva prendersi voleva prendersi questo mascara qua la mamma che io ho già finito e questo è uno scovolino enorme io ho detto non lo puoi prendere perché hai le ciglia talmente corte che poi ti macchi tutta e quindi le ho fatto prendere questo ah già ho questa maglia ecco mi dimenticavo qualcosa da accendem ho trovato anche questo bellino golfino questo bellino golfino ma come cazzo ho trovato sotto c'ho i pantaloncini comunque sì c'ho i pantaloncini questo golf che praticamente è fatto sembra fatta a maglia ma ovviamente non è maglia però è carino perché verde militare e boh è carino anche perché mi sta bene non ingrassa non smagrisce è così è liscissimo e nulla mi piace questo mi piace davvero tanto l'ho pagato questo qui 20 mi piace tanto e poi tiene calduccio sotto ovviamente ci ho messo una questa cannottiera qua però non mi piace l'abbinamento perché lo scolla bar che non mi piace vedere questo qua però stamani era di fretta quindi ci ho messo questa che comunque è una cannottirina che ho comprato da stefano che è così a righine e poi è pizzettata così però ecco non mi piace tanto perché lo scolla un po strano cioè tondo ma ti fa tipo così non lo so mi andavo a farvi vedere le cose che avevo comprato visto che io le ho le non le faccio mai perché mi fa fatica a mostrare le cose e così via quindi nulla e quando un bacio fatemi sapere se le cose che ho comprato che sono piaciute e poi ci sarà anche un'altra cosa che devo comprare che sarà un nuovo mascara e volevo comprare quello lì effetto piumato della maybelline quello lì fucsia col scritto di celeste mi sembra quello se l'avete provata fatemi sapere cosa ne pensate perché ho visto la recensione che ha fatto lì e mi piaceva l'effetto che dava e siccome mio l'ho finito volevo prendere quello ah se sapete mi scrivete anche il prezzo perché mi sembra sia 9 euro ma non so comunque se è 9 o 12 o 11 giù di là un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video ciao